Oggi mi sento veramente stronzo A tra i 9 e i 50 anni Non sa che i gameplay servono a far vedere più un gioco rispetto a chi lo sta giocando La sua intro è così composta Nome e irrilevanze che si muove a tempo Pensa che la suddetta intro si differenzi dalle altre Sono tutte uguali Il video di iscritto ricambi nella sezione dei commenti Ignorando completamente che c'è una sezione di messaggi privati in cui puoi vederlo solo tu e lui Se proprio lo dobbiamo fare, facciamolo in privato Credete che FIFA, Clash of Clans e Minecraft Siano i giochi più belli mai creati nell'universo Siano i giochi più belli mai creati nell'universo Nei titoli dei suoi video spesso appare il nome di qualche youtuber più famoso di lui E spesso anche nei tag Ti saluta con ciao bro Ma in grado anche di fare la combo, bella bro È scientificamente provato che durante 10 minuti di gameplay Riesca a dire almeno 20 volte ragazzi Degli studiosi svizzeri hanno rivelato che quando perde e muore un videogioco si arrabbia Sì ma per finta Acquista due esclusive PS4 da 70 euro Ma non la scheda d'acquisizione per la stessa cifra Se non la pensi come lui sul suo youtuber preferito Ti insulterà pesantemente A te e a tutta la tua famiglia Non sa pronunciare correttamente le seguenti parole Ma soprattutto non sa pronunciare Forse sto sbagliando qualcosa Come dite? Ah usa sempre e solo le stesse tre canzoni da anni Guarda caso sono quelle che usano gli youtuber grandi Ma ve lo lascio dire a voi Scrivetemelo voi nei commenti Uno di queste penso sia hello Non sa che se cerchi informazioni su un gioco Potresti andare a vedere anche su Twitch Ma in fondo non è neanche colpa sua Se in Italia le connessioni fanno cagare Se è una girl gamer e sta su Twitch Potremmo abilmente si vedranno delle parti del suo corpo Tramite delle scollature Ok Frankie ma questo a te piace Si in effetti si mi sta molto bene la cosa E l'ultimissima cosa è che mette le miniature sempre in pose scioccanti Siete pronti a una velocissima e rapida carrellata Di questo disgustoso modo di fare miniature Per me è Bene amici il video di oggi finisce qui Spero di esservi stato abbastanza sul cazzo Ci sarebbero ancora moltissime altre cose da elencare Ma penso di essere stato abbastanza stronzo Per quanto riguarda oggi Da domani ritornerò a fare il bravo youtubino Come sempre vi ricordo di mangiare tanta nutella Di dire sempre bro E di lasciare dislike a questo video Come sempre vi ricordo di mangiare tanta nutella